ciao a tutti ragazzi il video che faccio oggi per farvi vedere un'opzione di chrome che sarebbe questa allora clicchiamo sul tasto delle impostazioni il mio tasto sinistro clicco impostazioni allora vedete qui sotto motore di ricerca c'è compilazione automatica moduli serve per quando andiamo a registrarci a un sito che ci chiede il nome il cognome la via e numero di telefono codice fiscale per esempio basta cliccare all'inizio per esempio il nome e compilerà tutto per crearlo dovete cliccare qui sotto l'ho cliccato io scusate sto non dietro aggiungi profilo se non l'avete ancora fatto mettete nome magari marco marco che ne so marco bolli nome azienda niente se volete mettete privato privato indirizzo via cairoli ad esempio e in venti facciamo venti città o paese facciamo roma sto facendo tutto per esempio è quartiere non so che quartiere ci sono roma 100 celle 100 celle stato provincia regione mettiamo regione lazio poi mettiamo anzi prima prima di lazio mettiamo italia codice postale di roma non lo so vabbè paese italia numero di telefono mettiamo più 39 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 e sotto la nostra mail per dire marco chiocchiocciola gmail gmail.com quindi andiamo sotto clicchiamo su salva e vedrete marco bolli via 20 roma volendo c'è anche la compilazione della carta di credito vedete vedete possiamo mettere il nome sulla carta di credito il numero la scadenza salviamo ed ecco fatto e con questo è tutto vi saluto iscrivetevi se vi è piaciuto pollice in su ciao a tutti ragazzi